Tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi vi voglio parlare di Terminator 2 Il film che ha avuto un successo camoroso quando è uscito ma comunque tuttora è anche su Netflix Se volete ve lo potete andare a vedere oppure ve lo scaricate Secondo me è il più bel Terminator che hanno fatto finora E tanto che io sono andato nel tempo a collezionare vari oggetti di questo Terminator E praticamente è la storia del primo Terminator Dove c'è Sarah Connor che cerca di essere ucciso da un Terminator Mandato dal futuro per ucciderla E viene salvata da un uomo che viene mandato nel passato per salvarla E con loro fanno un figlio, John Connor John Connor è praticamente il protagonista insieme a Terminator e insieme a Sarah Connor del Terminator 2 Dove hanno come antagonista un nuovo Terminator, un prototipo, il T-1000 Che è praticamente metallo liquido Penso che la sapete tutti la storia, penso che tutti quanti siete visti Oggi voglio raccontare un pochettino di tutte le cose che ho io di Terminator 2 E dove le potete vedere nel film Allora Innanzitutto l'inizio Quando Arnold Schwarzenegger entra dentro il bar dei motociclisti E ruba il chiodo, questo tipo di giubbotto Al motociclista Al motociclista, diciamo, gli ruba il chiodo Dopo una scazzottata E anche le scarpe Questo è qua Dopodiché nella scena successiva Questa persona viene scaraventata nella cucina E lui va a prendere Cioè, prima un amico del motociclista Usa un coltello tipo questo qua Però non è questo genere Però è ornamentale anche quello là E ho preso uno a casa, uno coltello Comunque, prima va A colpire Arnold con il coltello Ma non gli fa niente Visto che è un robot E lui lo colpisce Lo inchioda Al biliardo col coltello Tramite Col coltello al biliardo Poi va nella cucina Doveva scaraventato il motociclista Quello col chiodo E gli stivali Che è questo qua Una colt senza torcia Io ce l'ho con la torcia Una colt 1911 Cerca di sparargli Ma non ci arriva E lui Gli la toglie dalle mani Arnold E se la prende lui E praticamente Nella scena successiva Si è ritagato Schwarzenegger Con il giubbotto yodo Una magliettina nera Io ho preso questo qua Dell'usa Della Wrangler Ma non ha questo Una magliettina nera normale Ho preso questa qua Perché si svolge negli Stati Uniti Perciò ho voluto mettere Qualcosa di Stati Uniti Come quelle Queste cose qua Della Coca Cola Del Jack Daniels Perché si svolge in un bar La prima scena Del Del Terminator E praticamente poi Gli ruba Sia il chioto Sia la magliettina Sia i giubbotti I jeans No jeans Non sono jeans Sono i pantaloni di pelle E infine Gli ruba C'ho anche la catena Però nel Terminator Non la usa la catena Ce l'ha il motociclista La catena da jeans Gli ruba anche gli stivali Che sono questi qua Perciò abbiamo un Terminator Con un chioto Maglietta Pantaloni di pelle Stivali Colt 1911 Va per prendersi la motocicletta E praticamente Incontra un Il proprietario del bar Lo minaccia con un fucile Tipo questo qua Però non è questo Questo è un fucile a pompa Lui invece ha un K Si chiama K Quel fucile Ed è tipo quello del Far West E non è tipo questo qua Soltanto è quello che si apre Di qua Che fa quello scatto così E praticamente Lo minaccia con quel fucile Di donargli le chiavi Al motociclista Ma Ardon lo prende E gli prende un paio di occhiali Che io non ho Questo paio di occhiali Da sole E un paio di occhiali Da sole In particolare Che vendevano in quel periodo Ma io non ce l'ho C'ho altri paio di occhiali Da sole Perciò non l'ho voluto dimettere Dopodiché Cosa succede? Gli ruba il fucile E ora perciò abbiamo ora Il Terminator Con Chiodo Maglietta Stivali Fucile E pistola Poi va a incontrare Il T-1000 Sappiamo la storia Come va a finire Eccetera eccetera Le altre cose che ho messo E' la Colt 1911 Che ha Sarah Connor Quando va Da Dyson Per ucciderlo E se la porta E se la porta Anche Nel Che è argentata Che è silver E se la porta Anche Nella Nella Cyberdyne E poi Abbiamo Il fucile Il Colt 1911 No Il Colt Il Colt M4 Di Sarah Quando va a uccidere A Dyson Nel Nella Nella sostanza Mentre Era al computer Il ragazzo E suo figlio Lo salva Con la macchinina Telecomandata Poi L'M4 Viene Dispunta Di nuovo Come fucile Sia Quando Vanno Nella Nel sotterraneo Dove ci sono Tutte le armi Ci sono Anche Gli M4 Sia Da Sarah Connor Quando cerca di uccidere Dyson Sia Quando Il Terminator Entrano Dentro Il Entrano Dentro Il Blindato Della polizia Che ci sono Un sacco Di M4 E Infatti Sarah Spara All T1000 Nell'elicottero Però Viene Ferita E poi Alle fine Terminator Usa L'M4 Quando spara Al T1000 Che è Dentro Il Il Camion Che cerca di Ucciderle Che cerca di ucciderle E Questo È L'M4 Poi Questa È La pistola Di Asta La vista Baby Quando Spara T1000 E Lo Riduci Mille Pezzi Per Per L'Azoto 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 Alla fine Il T1000 Nella Dove C'è L'Acciaio Fuso Comunque Più o meno La storia La sapete tutti Di Terminator Vi volevo Prevedere Che ho Collezionato Un poco Di cose Di Terminator L'ho comprato Anche qualcosa Apposto Come questo Cucile Per ricoltarmi Terminator Che è Uno dei miei Film preferiti Terminator 2 Non solo Perché Porta Comunque È molto Particolare Come film Interessante Molto Bello Mi piace Ovviamente C'è Anche Vi faccio Vedere Una cosa Eccolo Qua Terminator 2 Nella Nella mia Stanzetta Arlon Sopra La Fatboy E il fucile Ce l'ho messo Qua Perché Vi ho detto Che è uno Dei miei Film preferiti E niente Ogni tanto Quando avevo La motocicletta Mi Mi Collezionavo Le sue cose Pensando A questo Film Anche Perché Le moto Erano La mia Grande Passione Ora Non ce l'ho E niente Ragazzi Questo è tutto Per questo video Spero che vi piacciono I miei video Lasciate un like Guardatevi gli altri video Che parlo di tantissime altre cose E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao